Sono Fabio Novembrini, nato a Bari ma vivo a Firenze. Io sono Simone Arganini e vivo a Parma. Ho iniziato gli studi di danza classica e contemporanea a Bari e poi a Firenze e ho continuato a ricercare e approfondire gli studi a Berlino. A Bassano sono in residenza a Garage Nardini e sto ricercando su uno stato emotivo. Il tutto nasce da un'esperienza personale, da una situazione in cui mi sentivo incastrato e dopodiché sono riuscito ad uscirne e a liberarmi. Non sono da solo in questa residenza, con me c'è Simone che sta facendo le musiche di questo lavoro che si chiama When I Was in Stoccolma. Tre aggettivi che ci sono in questo lavoro sono precisione, trasformazione e libertà. La musica, ci abbiamo lavorato insieme perché fin dalle prime fasi sono andato in sala con Fabio e quindi la musica è andata molto di pari passo con il lavoro. È divisa in due fasi proprio come il lavoro insomma. Una prima fase più strutturata che va per sovrapposizione di suoni e l'altra invece più ritmata insomma di liberazione. Vi aspetto sabato 2 febbraio alle ore 9 al Garage Nardini.